Dimmi delle bombe a involucro speciale. Beh, ho delle sacche di resina adesiva. Mio zio Kemal aveva una passione per esse. Durante il conflitto di Bayezid con Venezia, era capitano della marina ottomana. Gli piacevano le bombe resinose perché si appiccicavano ovunque. Allo scafo delle navi, per esempio. Ho perso molti amici in quel conflitto. Come tutti noi, Ezio. Fu quello che mi fece diventare un assassino. Odio le frontiere che i nostri governanti hanno eretto fra i popoli. Lottiamo per far cessare la lotta. Un'amare ironia. Sarà sempre un'ironia, Evette. Ma forse un giorno non sarà così amara. Maneggiale con cura. Authentico. il nostro corso Oh no, ma fuori per tutti i Dio. Ah, che fracassi, cos'è stato? Ah, maledettine mie orecchie, che diamone è stato? Venite a fare... Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.